no non mi piace perché è blu e basta ciao sai che ho qualcosa per te un regalo sì un regalo però aspetta la voglio aprire ti lascio per 5 minuti appena vado via io apro perfetto 3 2 1 si apro guarda come è andata bellissimo bellissimo bello fino al cielo fino all'universo come è andata bellissimo